La cardiologia ed emodinamica di Sciacca è un'eccellenza, con il Giovanni Paolo II che si è classificato tra le prime dieci strutture in Italia per tempestività negli interventi di angioplastica. Al quinto posto, come ha sottolineato il primario Ennio Ciotta. Quando si ha un risultato di questo tipo, che siamo tra i primi in Italia per la tempestività del trattamento dell'infarto, è un risultato che si ottiene in equip, significa è un risultato che ottiene la struttura in quanto composta da una emodinamica di eccellenza, da un utic di eccellenza, ma è tutta la rete che funziona. La rete che funziona significa che il 118 porta i pazienti rapidamente presso il nostro reparto e quindi il cuore, il tempo e muscolo, il paziente arriva presto e viene salvato e la sensibilità anche, devo dire, delle persone, diciamo così, dei pazienti della zona di Sciacca, delle zone viciniore, che allertano naturalmente il 118 e arrivano rapidamente in ospedale. A evidenziare i numeri dell'emodinamica è stato il dottore Fabio Abbate. Il personale dell'emodinamica che spero a breve sia potenziato con un'altra unità deve darci il supporto per poter reggere il carico di lavoro che potete immaginare per 365 giorni l'anno è quello che deve assistere a qualsiasi tipo di emergenza in qualsiasi tipo di orario. Annualmente Sciacca effettua come emodinamica circa 200 interventi durante l'infarto miocardico acuto, quindi noi le chiamiamo procedure di angioplastica primaria. A parte questo abbiamo sempre voluto e speriamo quest'anno di riuscire a potenziarlo, implementare anche il trattamento di patologie non urgenti ma necessarie e patologie molto serie come quelle della patologia arteriosa periferica e patologia carotidea. Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato che la seconda sala di emodinamica sarà inaugurata il prossimo mese. L'appalto poi per la seconda sala è stato dato soltanto nel 2022, attenzione quindi non stiamo parlando di poi c'è stata una variante dei lavori che noi stessi abbiamo chiesto per ulteriore miglioramento della sala stessa, che i lavori sono attualmente in corso e che promettono, io in realtà me lo auguro fortemente assieme a tutti i miei colleghi, di inaugurarla già per il prossimo mese. Occorre lavorare sulla sensibilizzazione dei cittadini a riconoscere i sintomi e far subito ricorso alle cure dei sanitari, evidenziato il cardiologo Luigi Scandaglia. Non è irrilevante nemmeno la sensibilizzazione della popolazione che in caso di dolore, di sintomi un pochettini, questa parte credo che sia quella sempre il vulnus principale del trattamento rapido dell'infarto. Molte volte si perde tempo a casa o nel cercare soluzioni magari temporanee, non risolutive e lì infatti la mortalità per l'infarto omecardico acuto, quella più rilevante, il 50% di tutte le morti per l'infarto avviene sul territorio, prima che il paziente giunga in ospedale. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche la caposala del reparto Francesca Iacone e l'infermiere Franco Valenti. Siamo orgogliosi di questo traguardo che abbiamo raggiunto e si capisce benissimo che bisogna sempre migliorarsi perché appunto abbiamo a che fare con le vite umane e dobbiamo fare di tutto per fare in modo che le vite si salvino. Negli anni la cardiologia di Sciacca è stata sempre un'ottima cardiologia, ma diciamo che negli ultimi anni sia con la crescita diciamo dei vari dispositivi a disposizione per la sala impianti, dove mettiamo i pacemaker, i risincronizzatori che sono dei pacemaker particolari, comunque non scendiamo, abbiamo avuto un aumento notevole. Grazie. 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 Grazie.